Si preparano ad un'estate caldissima i lavoratori della Fabio Perini di Mugnano dopo che l'azienda ha annunciato una pesante ristrutturazione interna che prevede oltre 100 esuberi. 120, forse 130 di questi, per almeno 25, la Fabio Perini propone il prepensionamento. Altri 28 che lavorano nel magazzino passeranno invece ad una nuova società se sarà confermata l'intenzione di cedere l'attività. Poi ci sono altri 24 lavoratori impiegati nel reparto macchine utensili. Anche per loro o per parte di loro si profila il passaggio a nuova proprietà. Che l'azienda avesse qualche difficoltà non era un mistero per nessuno ma operai e sindacati non si aspettavano che la situazione precipitasse in questo modo e come annunciato sotto un sole impietoso i dipendenti hanno avviato il pacchetto di ore di sciopero. Hanno illustrato ai sindacati qual è la fotografia di un piano che vorrebbero portare avanti e noi pensiamo che da questo piano vadano assolutamente tolti gli esuberi, vada ridimensionato l'aspetto dell'impatto occupazionale, vadano garantite le prospettive future occupazionali e di rilancio dell'impresa. Siamo convinti che dobbiamo trovare delle soluzioni perché si possa continuare a rilanciare l'azienda e dare la prospettiva per il futuro. L'azienda non ha aperto procedure formali quindi è stata corretta, quindi non siamo all'interno di tempi dettati da delle leggi, sono aperti al confronto, ovviamente noi una volta che ci presenteranno nei dettagli il piano cominceremo a fare le nostre analisi e le nostre contraddeduzioni, dopodiché si tratta di portare avanti una trattativa serrata in modo che si trovi un accordo che garantisca tutti. Noi auspichiamo, e questi scioperi intanto sono qui a testimoniarlo e premiamo con questi scioperi, auspichiamo che il tavolo porti alla fine diciamo a non lasciare a piedi nessuno e con gli strumenti che sono a disposizione purtroppo alcune leggi non sono dalla nostra e ci complicheranno un po' le cose però in qualche modo vedremo di non lasciare nessuno senza tutele nonostante il taglio che hanno deciso. Continuare a incontrare l'azienda per capire quali sono veramente le difficoltà che ci sono state esposte e per le quali siamo arrivati a una scelta di questo genere, dopodiché le mosse che come sindacato andremo a fare le condivideremo intanto con tutti i lavoratori in assemblea e comunque il nostro intento è vedere di fare quadrato su tutti, su tutta la forza lavoro e blindare quello che sono le potenziali ristrutturazioni che l'azienda ci chiede, quindi avere garanzie di occupazione come tutti i lavoratori meritano.